No, adesso spiegami cosa devi fare. Ma, ero deciso di parcheggiare e finire qui o andare avanti? Vediamo cosa dicono loro. Avanti! Avanti, ragazzi! Vieni che c'è un'attività, vai! Dai, uccidiamola qui, facciamo un coro sotto, facciamoci sentire. Ma, allora vedi, voce, dove siete? Oh, oh, oh! Oh, facciamo un grande applauso per i Sassuorolleri. E facciamo anche a Elena, vai, ragazzi. Oh, bravissima Elena. Cambiamo. Adesso vuole, vuole due more. Ragazzi, io mi sposto perché... No, conosciuto te, Dutore, e la testa... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.